benvenuti da one piece i massimi esperti in questo nuovo video oggi tratteremo i top villain di monkey di rufi in one piece è un nuovo format che concerne sempre però i video teoria in questo caso inizieremo con i cinque top villain di rufi secondo noi naturalmente fino però all'approdo a wano kuni quindi prima dello scontro con caido sarà una classifica in ordine crescente quindi partiremo dal quinto fino ad arrivare al primo posto i personaggi che andremo ad analizzare sono presi in considerazione nel momento in cui sono stati mostrati negli scontri con rufi quindi per farci capire e nero crocodile lucci verranno palesati e considerati nel pre time skip non considereremo il post time skip anche perché non ci è ancora dato sapere qual è il loro livello combattivo attuale che sarà sicuramente migliorato ma non lo conosciamo ancora ovviamente questa è la nostra personale classifica quindi poi nei commenti dici voi cosa ne pensate e qual è la vostra classifica detto ciò passiamo ora alla classifica al quinto posto vi è crocodile alias mr zero in passato è stato un membro della frotta dei sette ed anche il capo della baroque works personaggio intelligente spietato malvagio scaltro infatti è riuscito a manipolare il regno di alabasta si è mostrato come un eroe mentre pianificava di rovesciare il re e quindi il regno tenendo tutto all'oscuro al governo mondiale la sua taglia sospesa era di 81 milioni di berri ma non rappresentava la sua vera potenzialità infatti una volta che venne incarcerata in pel down fu collocato al sesto livello lì dove vengono rinchiusi i più forti e più pericolosi criminale al mondo con delle taglie che vanno dai 300 milioni a salire crocodile ha poi anche partecipato attivamente alla fuga da impel down poi a marineford affronteggiato senza portare gravi ferite personaggi forti come draculmi hawk e do flamingo entrambi i membri della flotta ormai sciolta vi invito a vedere i video anche su loro due che abbiamo fatto già crocodile ha inoltre provato ad attaccare anche individui del calibro di barbabianca e di sagazuki rispettivamente imperatore e ammiraglio all'epoca adesso grande ammiraglio a caino crocodile e anche a conoscenza di alcune informazioni molto sviluppate molto importanti per ciò che riguarda i frutti del diavolo infatti è il primo o uno dei primi a parlare degli svegli dei frutti crocodile ha ingerito il frutto del diavolo roja sand sand che gli consente di diventare di creare e anche di manipolare la sabbia riesce a utilizzare questi poteri in combattimento creando anche delle lame delle tempeste di sabbia fino a diventare lui stesso la sabbia il pirata è inoltre in grado di disidratare gli avversari viventi semplicemente toccandoli e allo stesso modo riesce a disintegrare qualsiasi materiale anche le rocce il legno ce lo fa vedere ce lo dimostra la sua sconfitta per mano di rufi è avvenuta dopo un durissimo scontro durissimo combattimento che si è diviso in più fasi e dopo che l'ex membro della flotta dei sette aveva quasi ucciso il capitano per ben due volte lui comunque viene sconfitto grazie all'incredibile determinazione bravura ed anche fortuna di mugiwara non rufi che riuscì a vincere capendo quale fosse il punto debole di crocodile e superando anche se stesso per riuscire a vincere da quello crocodile è stato il primo membro della flotta dei sette che è stato affrontato e sconfitto da rufi naturalmente sappiamo che il punto debole fu quello che rufi prima riuscì a bagnarlo poi ha continuato a combattere con il suo stesso sangue modo da rendere crocodile tangibile era lì quando ancora diciamo laghi dell'armatura non era nelle idee di oda o almeno non era così eclatante nel manga crocodile va all'ultimo posto perché è vero che diciamo è la punta principale avversario con cui c'è lo slancio per andare a affrontare poi tutti gli altri sempre più incredibili però rufi riuscì da batterlo con un escamotage senza dover migliorare le sue caratteristiche e suoi attacchi che erano già gli stessi al quarto posto c'è il personaggio preferito di tantissime persone il dio e neru incredibile al contrario della maggior parte degli abitanti dell'isola nel cielo sulla sua schiena non ha le ali bensì quattro tamburi che raffigurano delle tomoe da cui può generare i vari attacchi elettrici questi strumenti sono simili a quelli posseduti da raijin il dio del tuono per la mitologia giapponese a chi piace sapete noi facciamo sempre dei piccoli approfondimenti in merito e neru o enner pensa a se stesso come una divinità invincibile quasi immortale pertanto si sente sempre in diritto di appropriarsi o di distruggere qualsiasi cosa egli abbia voglia essendo definito il dio di scaipia aveva il pieno controllo su tutta l'isola nel cielo era profondamente temuto da ogni abitante infatti per la paura di questi ultimi era tale da considerarlo appunto non come un leader ma come un vero e proprio kami un dio grazie al potere del suo frutto del diavolo e alle sue grandi abilità nel controllare il mantra l'agio l'agri della percezione visto sulla terra veniva considerato appunto un individuo estremamente potente la sua forza era tale da permettergli di sconfiggere i più forti componenti della ciuma di rufi cioè zoro e sanji anche enner come crocodile ha ingerito un frutto del diavolo del tipo roggia il suo è il rombo rombo ciò gli consente di utilizzare una grande quantità di attacchi basati sull'elettricità e anche sulla distanza oltre a questo può rendersi intangibile e muoversi appunto alla velocità dei fulmini come già detto è anche un utilizzatore dell'ambizione della percezione nota come mantra lì a skypea tale abilità gli permette di prevedere con grande facilità gli attacchi dei suoi nemici e lo dimostra nel suo primo scontro con rufi inoltre emettendo delle onde elettromagnetiche grazie al suo frutto del diavolo può persino udire le conversazioni delle persone anche molto distanti da lui la combinazione di questi poteri lo rende praticamente del tutto onnisciente su tutti i fatti che accadono lì su skypea ora ha affermato che se nero fosse stato un pirata ricercato quindi con una taglia nel mare blu la sua taglia sarebbe stata di almeno 500 milioni di best cioè mezzo miliardo nella battaglia decisiva con rufi lo scontro si divide in più riprese incredibili rufi però riesce a vincere soprattutto grazie al fatto che il suo frutto fosse l'antitesi del frutto di enero sappiamo bene che la gomma in isolante per l'elettricità quindi come successe con crocodile rufi riesce a sfruttare il punto debole del suo avversario e quindi vincere con un certo distacco la verità che comunque enero come crocodile si basavano entrambi molto sulle caratteristiche del frutto e quindi da ciò discende anche un po le loro debolezze e rufi li ha sfruttati appieno battendo le entrambi quindi meritevoli del quinto e del rispettivo quarto posto al terzo posto un altro personaggio amatissimo da molti cioè rob luci un genio un nemico che mostra sin da subito una distanza e una freddezza mentale incredibile rispetto a tutte le altre persone comuni lui è come se non avesse emozioni e programmato per eseguire gli ordini del governo mondiale e quindi dei draghi celesti infatti per lui nient'altro l'importanza è un combattente nato già differenza dei primi due lui si è allenato tantissimo per migliorare le sue caratteristiche in merito a ciò è molto importante anche un flashback che vedremo di quando era giovanissimo nel momento in cui uccise ben 500 soldati di un regno che vennero sequestrati da dei pirati e questo perché li ritenne troppo deboli quindi eliminandoli recluse ogni possibilità dei pirati di avanzare qualsiasi tipo di richiesta dopo ciò luci eliminò anche tutti gli altri pirati ma durante lo scontro venne colpito da cinque cannonate e infatti gli rilasciarono quella che la cicatrice distintiva che ha sulla sua schiena ma da lì comunque possiamo capire la sua grande malvagità e la sua grande determinazione il suo cinismo lui oggi fa parte della cp zero cyber pool ma prima del time skip era il membro più forte della cp9 quindi un grande agente governativo il più forte ad aver mai lavorato per la storia dell'organizzazione della cp9 e la sua forza è anche riconosciuta da molte figure del governo ma soprattutto della marina infatti a detta del viceammiraglio dobermann era impossibile che luci potesse essere sconfitto da rufi mentre un altro viceammiraglio onigumo vedendo i due combattere su un'altra nave della marina ordinò ai suoi vari sottoposti di fare fuoco tanto che era sicuro del fatto che luci avrebbe evitato ogni singolo attacco cosa che infatti è avvenuto lo stesso orso bartolomeo ex membro della forza re 7 ex rivoluzionario come sapete il tiranno affermò che mai nessuno si sarebbe aspettato infatti una sconfitta di luci luci inoltre ha ingerito il frutto del diavolo zozo felice felice modello leopardo che gli ha donato le capacità di trasformarsi in un lepardo oppure un ibrido leopardo e umano la sua forza viene misurata in dorichi che appunto vuol dire potenza e il livello di luci raggiungeva i 4000 dorichi le sue tecniche speciali di combattimento venivano chiamate rokuschiki e il livello di padronanza di luci di queste tecniche era appunto espresso in dorichi grazie a queste tecniche riusciva a ferire rufi molto gravemente nello scontro con rufi comunque che fu incredibile il capitano vinse soprattutto grazie all'utilizzo del gear second e del gear third scontro talmente difficile che di fatti dopo la vittoria in extremis raggiunta da rufi quest'ultimo non riusciva più a alzarsi da terra lui raggiunge il terzo posto e quindi il podio perché a differenza dei primi due ha dimostrato come si basava molto di più su se stesso sul suo allenamento sulla sua caparbietà e la sua forza oltre l'ingerimento del frutto e quindi aveva praticamente colmato quelle che invece sembravano le debolezze dei due precedenti e al secondo posto va colui che il più avrebbero messi al primo cioè do flamingo il demone celeste lui è indubbiamente uno dei più grandi personaggi e più complessi dell'intero manga ha un carattere fortemente teatrale e ha anche l'abitudine di atteggiarsi in ogni situazione che affronta con grande arroganza lui è sicuramente l'ex membro della flotta dei sette più cinico e lo dimostra quando si siede al tavolo della riunione che venne convocata dal governo mondiale e cerca di attaccare briga con all'epoca il grande ammiraglio sengoku prima di entrare nella flotta dei sette la sua taglia era di 340 milioni di berri bisogna celebrare bene questo personaggio infatti possiede tutte e tre gli hachi e anche il risveglio del frutto un personaggio veramente malvagio pronto anche a sacrificare i suoi stessi uomini pur di raggiungere i suoi obiettivi a volte le ha anche utilizzati come gli oggetti vedasi bellami ma anche gli stessi vergo e monè che erano pronti a sacrificarsi per lui e lui li sacrificò nonostante la sua fedeltà ma ci mostra anche il legame che aveva con essi molto forte naturalmente secondo noi ma nella storia vediamo che lui non è nato completamente malvagio ma sono stati sempre gli eventi a portarlo a ciò ma questo non giustifica ciò che fece a dress rosa e all'intera popolazione nello scontro con rufi si dimostra estremamente abile astuto intelligente infatti innanzitutto utilizza la gabbia per uccelli per far sì che nessuno potesse scappare da dress rosa lo scontro inizialmente viene combattuto in tag da rufi e lo contro do flamingo appunto ma l'ho dopo aver dato il massimo si fa da parte perché non era più in grado di continuare quindi inizia il vero e proprio scontro fra rufi e do flamingo 1 versus 1 dopo una fase quasi di stallo fra i due rufi decide di utilizzare per la prima volta il gear force questo perché il gear second era troppo veloce ma non abbastanza forte il gear third era troppo forte ma non abbastanza veloce quindi con il gear fort lo scenario cambia completamente rufi era più veloce lo flamingo era più forte nell'utilizzo dell'aki i fili non avevano effetto su di lui che se ne libera con una facilità disarmante i colpi di do flamingo non avevano effetto su lui a forte che era ormai inarrestabile il capitano però nello scontro fece volare do flamingo per tutta dress rosa ma il gear fort aveva un problema durava dieci minuti solamente un po come ai suoi tempi il gear third che rimpiccioliva rufi lo scontro però poi viene concluso con rufi nel suo colpo finale ritrasformandosi in gear fort con il king kong gun lo flamingo comunque si è dimostrato un vero villain vero nemico veramente malvagio un usurpatore un grandissimo avversario rufi ha dovuto dare adito alle sue tecniche migliori no al gear fort il fenomenale uomo rimbalzo però una volta trasformatosi rufi ha dimostrato la sua superiorità stava aspettando però poi dopo lo flamingo ha potuto fare veramente ben poco per tamponare quella grande esuberanza del capitano ebbene signori al primo posto mi dispiace per gli sfogliatori ma non poteva esserci che lui cattacuri un avversario sia tipico ma non per questo bisogna sminuirlo è veramente stato un villain incredibile ma non sarò io a parlarvene perché è giusto che lo faccia chi di competenza sin dalla sua presentazione prima che iniziasse le parti viene presentato in modo incredibile capace di vedere il futuro facendo fuori uno degli invitati anticipa il discorso che stava per fare capone che non può fare altro che ripeterlo impaurito katakuri il dolce comandante più forte della ciurma di big man quest'ultimo ha ricoperto un ruolo fondamentale per la saga di world cake island infatti è stato il villain della saga l'ultimo vero scontro per rufi prima di affrontare gli imperatori appunto ad esempio quando rufi voleva rompere la foto di madre caramella katakuri lo ferma guardando il futuro mostrando di possedere un'abilità che nemmeno la madre possiede tra le caratteristiche tipiche di katakuri come avversario c'è sicuramente la sua grande realtà che lo ha portato addirittura nello scontro con rufi ad auto infliggersi con il suo tridente cosa gli ha influito non poco sulla sua sconfitta rufi lo porta con sé nel mondo degli specchi perché altrimenti asanni non avrebbe potuto partire nel mondo degli specchi il combattimento a mio parere si divide in più fasi katakuri è un personaggio dai due volti da un lato un uomo perfetto coraggioso invincibile che non è mai stato sconfitto dall'altro lato una persona con tutte le sue debolezze che cerca di essere quello che non è che si vergogna del suo aspetto arrivando a coprirsi la bocca con una sciarpa anche se inizialmente lo fa per proteggere brule e la sua famiglia una delle caratteristiche eccezionali di katakuri e di sicuro la sua grande forza infatti il primo dolce comandante e possiede una taglia di oltre un miliardo di berri e probabilmente rimarrà uno dei nemici più forti e spettacolari dell'intero manga di one piece descrivendo le sue caratteristiche notiamo che sono incredibili grande potenza grande velocità resistenza risveglio del frutto mochi mochi ed è in grado di utilizzare tutti e tre tipi di acchi particolarmente l'acchi della percezione che è talmente sviluppato da permettergli di vedere il futuro uno dei pochi personaggi in grado di fare ciò possiede l'acchi dell'armatura superiore a quello di rufi tranne di rufi in ghi a fort bondman e l'acchi del re ad un ottimo livello comunque oltre a sua potenza la caratterizzazione e la storia di katakuri sono eccezionali un uomo che viene considerato invincibile celebre e la sua frase finché resto calmo non posso perdere inoltre ha dimostrato sempre grande determinazione ed orgoglio visto che fin dalla sua nascita in tutti gli scontri che ha affrontato non è mai stato ferito alla schiena e non ha mai permesso che essa toccasse terra un personaggio spettacolare che ha saputo riconoscere il vero valore dell'avversario non sottovalutandolo mai come avvenuto con rufi possiamo sostenere quindi che katakuri è stato l'avversario più forte in assoluto mai affrontato da rufi l'ultimo baluardo l'ultima prova prima degli imperatori per chi è arrivato fino a questo punto del video scriveteci nei commenti voi cosa ne pensate e quindi la vostra classifica motivando per noi katakuri è palesemente messo al primo posto perché l'ultimo scoglio prima di raggiungere gli imperatori e l'avversario più forte che rufi abbia mai affrontato e di fatti rufi non ha dovuto trovare un escamotage come è potuto avvenire con e nero piuttosto che crovalile ma ha dovuto migliorare le sue stesse caratteristiche adattandosi all'avversario ma al contempo imparando un qualcosa vedere il futuro per poi usare naturalmente ghi ha forte per far sia che katakuri nonostante vedesse il futuro non riuscisse a essere abbastanza veloce per evitare qualsiasi colpo alcuni sì e alcuni no quindi katakuri in questo scontro incredibile che ci ha fatto vedere insieme a rufi si è dimostrato quello che è il villain più grande di Mugiwara Noruf prima degli imperatori a mani basse finché resta calmo lui non può perdere detto ciò se ci seguite per la prima volta iscrivetevi e attivate la campanella lasciate un like e passate da tutti i nostri social instagram telegram facebook eccetera eccetera li trovate in descrizione e dalle nostre collaborazioni detto ciò aspettiamo un vostro commento anche come sempre da veri o vere sfogliatori o sfogliatrici senza sfogliatelle un saluto dai massimi esperti di one piece in italia qui come sempre c'è solo la verità